Gotham a Batman, Metropolis a Superman e adesso anche Cartigliano avrà la sua personalissima squadra di eroi composta da bambine e bambini coraggiosi. L'iniziativa, lodevole e originale, nasce dall'amministrazione comunale che ha lanciato un concorso Tutti Possiamo Essere Supereroi. Non ci siamo dimenticati dei ragazzi che devono rimanere a casa e con queste giornate non è facile coinvolgerli in attività stimolanti e istruttive. Abbiamo lanciato l'iniziativa Tutti Noi Possiamo Essere Supereroi, un modo originale per far capire ai più piccoli che tutti possono fare la differenza in questa lotta contro il virus. I bambini stanno mandando tantissimi disegni in cui vestono i panni dei loro supereroi preferiti per difendere la nostra amata Cartigliano. Alla fine li convocheremo in comune e li nomineremo Supereroi di Cartigliano perché anche il loro aiuto sarà stato molto importante. Grazie. Grazie.